Amici di Storio Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Stavolta ci occuperemo della storia di un campione caduto e rialzatosi più volte nel corso della sua carriera. In molti lo considerano un talento sprecato, altri un ribelle che ha sempre deciso il suo cammino da solo, altri ancora uno dei tanti calciatori che non hanno avuto la sorte al loro fianco nei momenti chiave della carriera. Racconteremo la storia di Gianluigi Lentini, la fenice folle. Gianluigi Lentini, classe 1969, nasce calcisticamente come uno dei tanti prodotti di quella fabbrica di talenti che è il settore giovanile Granata e durante la gestione di Sergio Atta il toro di giovani promettenti ne sforna decine, quantomeno in grado di portare avanti una degna carriera nel calcio dei professionisti. Lentini però, si vede subito, ha qualcosa in più. Nel vederlo dribblare tutto e tutti i palla al piede, al toro i paragoni con Meroni scattano subito, ma si capisce immediatamente che tra i due c'è poco in comune nel modo di giocare. Meroni è stato un talento iconico per un'epoca di calcio con i calzettoni abbassati alle caviglie, fisici gracili che sapevano ricamare giocate in venti centimetri di campo come Mariolino Corso. Lentini sembra provenire dal futuro, fisico prolompente e progressione inarrestabile, le celle nei dribbling, ma non avrebbe neanche bisogno di farli. Basta un po' di spazio, l'avversario viene puntato e ciao. Gigi Radice se ne accorge facilmente e a 17 anni, il 23 novembre 1986, lo fa esordire in Serie A contro il Brescia. Nella stessa stagione, Lentini vince il torneo di Viareggio con un toro fortissimo, con Diego Fuser, Giorgio Venturin e Giorgio Bresciani in squadra. Sono però anni difficili per il toro che prova a rilanciarsi e invece trova una clamorosa retrocessione in B, nella stagione 1988-89. Ma Lentini in cadetteria ci sta già giocando, in prestito a Lancona, dove da titolare segna anche quattro gol. Un'esperienza fondamentale perché il toro se lo riprende per risalire subito. Il campionato è dominato, Lentini segna 6 gol in 22 partite e inizia a diventare idolo della tifoseria Granata. Le due stagioni successive sono quelle della consacrazione. 67 presenze e 10 gol in due stagioni. Nella prima il toro torna in Europa, nella seconda si gioca addirittura la finale di Coppa UEFA, dopo aver eliminato in semifinale il Real Madrid. Il feeling con Mondonico è eccellente, anche se un lavoro importante sul ragazzo lo ha fatto Eugenio Fascetti nell'anno della promozione. Bastone e carota per fargli capire di essere assolutamente utile, ma mai indispensabile, considerando anche la giovane età. D'altronde Lentini è in bilico fra il genio sregolato e il bravo ragazzo di provincia. Origini siciliane racconta di aver sentito per la prima volta di avercela fatta davvero quando ha comprato casa ai genitori, ma alla crescita delle sue prestazioni in campo, si affianca a quella della presenza sui giornali. Auto di lusso, vacanza Ibiza, un orecchino che gli viene imposto di togliere quando vicini decide che la sua presenza in nazionale non può essere più occasionale. Il giovane deve diventare adulto, soprattutto dopo l'endorsement di Enzo Berzot. È come Dominghini o Bruno Conti, non è una razza estinta. E all'alba degli anni 90 il parere del Veccio è ancora molto ascoltato. Il 1992 deve essere il suo anno, ma i segnali del destino non sono incoraggianti. All'Europeo in Svezia non c'è, perché non c'è l'Italia eliminata dall'Unione Sovietica, subito dopo dissoltasi e presente nella competizione come comunità degli stati indipendenti. La delusione di Amsterdam, già citata, consuma il clamoroso addio. Ufficialmente 18 miliardi e mezzo entrano nelle casse del Torino, versati dal Milan. Lentini non è convinto, ma come spesso è accaduto, le pressioni di Berlusconi furono decisive. La gazzetta dello sport cita in prima pagina cifre spropositate che sconvolgono l'opinione pubblica. Lentini si dà 65 miliardi, mostruoso ingaggio, da 42 miliardi in quattro anni. Si ragiona ancora in lire, ma sono numeri inverosimili, anche per il mercato berlusconiano. Soldi che permettono al presidente Granata Borsano di scaricare l'intera responsabilità del trasferimento sul giocatore. In più, il Milan si lancia a frecciate anche con la Juve, che aveva messo gli occhi sull'attaccante. Negli anni di Tangentopoli, la pioggia di monetine con cui i tifosi del Toro salutano Lentini, precorre i tempi di quella scagliata verso Bettino Craxi, poco tempo dopo. La prima stagione a Milano è più che buona, 30 presenze e 7 gol in una squadra che domina il campionato. Le critiche arrivano principalmente in relazione alle cifre circolate sui giornali per il suo trasferimento. Il 2 agosto del 1993 però cambia tutto, l'ennesimo incrocio del destino fuori dal campo che spesso ha toccato chi ha vestito la maglia Granata. Lentini sta tornando da un torneo amichevole disputato per celebrare il Centenario del Genoa. Da Genova è diretto verso Torino, ma buca una gomma. Si ferma in un autogrill e monta il ruotino, senza sapere che bisogna in questo caso mantenere i 70 km all'ora per non correre pericoli. Quando la macchina sbanda, toccava invece i 200. Errore fatale, la testa sbatte violentemente contro il parabrezza, due giorni di coma e riflessi rallentati al risveglio. Gigi deve addirittura reimparare a parlare a velocità normale prima di pensare di nuovo al calcio. Ma il suo gran fisico lo aiuta, ci vogliono quasi due anni per rivederlo titolare nel Milan. Gioca le ultime sette della Serie A, 1994-95, quando il Milan deve disputare un'altra finale di Coppa dei Campioni. E lì si consuma la più grande delusione sportiva della sua vita, come da lui stesso raccontato. Due stagioni dopo ero di nuovo fortissimo, ero sicuro che avrei giocato la finale di Coppa dei Campioni 1995, Milan Ajax a Vienna. Invece Capello mi tenne fuori, lui non dà mai spiegazioni. Crollò tutto, persi la voglia, sbagliai. Quella sera è finita la mia carriera. Mentalmente Lentini stacca la spina, lo ripesca Mondonico che se lo porta all'Atalanta e gli fa guadagnare un ultimo gettone in nazionale, poi torna al Toro, protagonista di una promozione mancata, una centrata, ma senza evitare poi una nuova retrocessione. Leggendari i suoi scontri con Marco Materazzi, da lui definito una persona inqualificabile. Quando ancora non c'erano le telecamere, faceva delle cose in campo che non possono essere raccontate, sembrerebbero irreali. Ma non finisce qui. L'ultima parte della carriera la vive a Cosenza, regalando magie e giocando anche un'ultima stagione in Serie D, senza abbandonare il club dopo il fallimento. Avrebbe messo fuori gioco chiunque non avesse avuto la stessa capacità di Lentini di risorgere dalle proprie ceneri. E chissà dove sarebbe benissimo. Mai pensato di diventare allenatore? Non mi sono preparato a niente. Ogni tanto la gente mi chiede ma che fine hai fatto? Io non sto in tv. Non sono diventato opinionista. Alle scene dei club Granata non vado quasi mai, anche se mi invitano spesso. Negli ultimi tempi avevo giocato in eccellenza in promozione. Io senza più cartilagini, senza un crociato anteriore, ma con un fisico da bestia, modestamente. Non ho il patentino, non ho una strada nel calcio, mai stato un lecchino. Non sono una persona triste, anche se spesso mi hanno definito ombroso. E che mi piace rimanere tranquillo, senza pensare troppo, senza essere qualcuno. Però, ragazzi, quanto mi sono divertito!